Un saluto da Alex Amat di YouTube, mi raccomando, restate a casa e vedrete che questa situazione passerà molto più velocemente. Ciao ragazzi, mi raccomando, diffondete questo messaggio, io resto a casa, mi raccomando, ci vediamo presto, ciao! Buongiorno ragazzi, come state? Fate silenzio per favore, un secondo eh, uccellini, su, volevo dire una cosa importante che non lo dice mai nessuno. Restate a casa, se state tutti a casa e usciremo prima fuori, abbiate rispetto per i medici, per i migliori e per tutte le persone, si sacrifichano. Ecco, silenzio anche tu, la gattina, la Bettina, su, e per quelli che invece vogliono fare i furbi, che escono loro testo nonostante tutti, che sono imbecilli, irresponsabili, incoscienti, o si permette una bella battellata in testa. Credetemi che se ritrovo qualcuno che gira, che fa il matto, che se ne frega, pa! Una bella battellata in testa. E prima facciamo i bravi, e prima ne usciamo fuori. Che dite? Comunque, buona giornata ragazzi, mi raccomando, riflettete. Ciao! Ciao, mi chiedo in casa, io sto a casa, I stay at home. E anche te, stiamo a casa, mi raccomando, stay safe. Ciao a tutti da Simona Senesin, baci! Ciao ragazzi, sono Flaco, e come al solito, mi raccomando, rimanete in casa, io ho la mia mascherina, scherzo, è la mia amba, è la mia piccolina, e mi raccomando, resta a casa, stay at home, chiedate in casa. Ciao a tutti ragazzi, qui è Donna Mania. Come state? Spero bene. Io sto a casa, questo è quello che sto facendo in questo momento, sto ricamando. Ho ripreso uno dei lavori che avevo messo via qualche giorno fa, perché volevo fare altri video, e ho detto questo, quando avrò un po' di tempo, lo finisco. Il ricamo è una delle mie passioni, mi rilassa moltissimo. Adesso ho tempo per finire questo lavoro. Sto in casa, perché non mi voglio ammalare. State in casa anche voi, ne va della nostra salute. Quando avremo la possibilità, usciremo e andremo a fare tutte le cose che ci piacciono. Per adesso restiamo in casa e facciamo le cose che possiamo fare in casa. Stiamo sereni. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Ciao. Salve a tutti ragazzi, per chi non mi conosce io sono Costantino. Vi ricordo di stare a casa, state tranquilli, guardate tutte le serie, guardate tutti i video su YouTube, guardate tutto quello che vi pare, ma non uscite se non è strettamente necessario. Io resto a casa. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, sono Nicola, del canale Altri Tony & Co. Siamo un gruppo di musicisti e anche noi facciamo parte della meravigliosa community di Andrea Cappelletti. Volevo semplicemente dirvi che noi restiamo a casa e spero lo facciate anche voi, così da poterci rivedere a più di questo. Ciao. 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 Salve a tutti ragazzi, anche io mi unisco al coro, restiamo a casa, è importante rispettare le regole e restare a casa, comunque se volete restare in compagnia seguite il mio canale YouTube KimiVideos e unitevi alla nostra community per crescere tutti quanti insieme, quindi mi raccomando restiamo a casa ma restiamo su YouTube, ciao ragazzi! Cari ragazzi, buongiorno a tutti, se potete restate a casa, qualche cliente mi ha detto ma perché dobbiamo stare in casa? dobbiamo stare in casa semplicemente perché questo virus è altamente infettivo ed anche se non ci sono casi c'è il rischio che uscendo riparca il contagio, soprattutto in quelle città dove ancora non ci sono stati tanti morti quanto a Milano e a Bergamo. Il momento è tutto, un saluto affettuoso a tutti, ciao! Ciao ragazzi, sono Alessia del canale Svecchiografica. Prima di tutto volevo salutare e ringraziare i miei amici della community di Andrea Cappelletti e anche oggi io e Pusheen Cat restiamo a casa! Ciao Alessia, oggi è una bellissima giornata, c'è un sole splendente Computer, perché sei così cattivo con me? Ragazzi, io resto a casa. Stay home, io mi chiedo in casa. A presto, see you soon, a Stami Pronto! Ciao ragazzi, ancora uno sforzo e supereremo questa emergenza. Teniamo duro e restiamo a casa. Per gli youtubers che si annoiano troppo, li invito a entrare nella community, che è un posto dove si scambia le idee e si fa crescere insieme il canale. Ciao! Non mi permetto di entrare nei vostri sogni. Per esempio, si può fare milioni di cose carine. Cucinare, per esempio. Una cenetta romantica con la vostra partner. Dedicarsi al giardinaggio. Ascoltare o suonare musica. Oppure lavorare, leggere, scrivere, studiare, ma soprattutto sognare. non mi permetto di entrare nei vostri sogni sono riservati quindi stiamo a casa e facciamo i nostri sogni più belli